Giovedì scorso, 23 febbraio, si è riunito il Consiglio Comunale della città di Tolentino. In apertura di seduta all'unanimità è stato deliberato di intitolare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Tolentino a Roberto Torreggiani, Vigile del Fuoco Esperto, vittima del dovere. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, dopo aver fatto osservare un minuto di silenzio, ha illustrato il dispositivo di delibera e, dopo la votazione, favorevole all'unanimità, ha consegnato una targa ricordo all'ingegner Stefano Tasso e ai colleghi di Torreggiani, che nel corso della sua carriera aveva prestato servizio anche a Tolentino. A seguire la comunicazione è stata trattata l'interrogazione presentata dal consigliere Mercorelli, avente per argomento la situazione dei rapporti economici del Comune con il ristorante La Gatta Buia. Con 14 voti favorevoli ed uno contrario, quello di Mercorelli, è stato approvato l'adeguamento dello Statuto Societario del Cosmari SRL, alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Con 13 voti favorevoli e uno contrario, è stato approvato l'atto d'indirizzo per la realizzazione di una struttura a servizio della parrocchia di San Catervo, sull'area di proprietà del Seminario Vescovile di Tolentino. Parere favolevole e unanime per l'autorizzazione avvende l'immobile sito a Tolentino, all'interno del PIP e Cisterna della ditta Liroama di Limoni Roberto e C. Sempre all'unanimità, revocata l'adesione in convenzione alla stazione unica appaltante con la provincia di Macerata e approvate le linee guida per nuovo accordo con sua comune di Macerata. Sempre all'unanimità, è stato dato il via alla permuta delle superfici per la realizzazione del progetto di sicurezza stradale e per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione viale Terme Santa Lucia, viale Buozzi, via Roma. Con 13 voti favorevoli ed uno contrario, Mercorelli, approvata l'acquisizione e accorpamento al demanio stradale di aree private usate ad uso di viabilità pubblica da oltre 20 anni in Contrada Ributino. Con 9 voti favorevoli, due contrari, Mercorelli e Sclavi e tre astenuti, Cesaretti, Prugni e Riccio, è stata approvata l'acquisizione nel demanio stradale comunale della strala vicinale consorziale denominata San Paolo IX. Ritirate le due mozioni aventi per argomento su Sisma e protezione civile, centro operativo comunale e azzeramento oneri previsti da SSM per cessazione e allaccio di utenze relative ad edifici inagibili a causa del sisma. In sostituzione è stato presentato dal consigliere Mercorelli un ordine del giorno urgente sulla modifica della normativa Tari, il quale è ammesso e dopo la trattazione è stato votato con 7 voti contrari, maggioranza e 7 voti favorevoli, Cesaretti, Ceselli, Fogante, Massi, Mercorelli, Prugni, Sclavi, per cui è stato respinto.